E' di sei feriti, quattro dei quali in pericolo di vita è il bilancio dell'incendio che ieri notte è divampato all'interno dello stabilimento alluminium nella zona industriale di Bolzano. Al momento dell'incidente erano presenti diversi dipendenti impegnati nel turno di notte. Secondo un operaio rimasto in colume, lo scoppio si è verificato in uno dei locali destinati alla fusione dell'alluminio. Cresce la tensione tra Italia ed Europa alla partita delle nomine e dei nuovi vertici. Si aggiunge quella sul MES che l'Italia, unico paese, non ha ancora ratificato. Il ministro Giorgetti Irritato parla di pregiudizi sull'Italia in riferimento alle nomine, ma apprezza le aperture sull'ex fondo Salva Stati, su cui però Salvini ribadisce che si tratta di un'altra follia europea. Non lo ratificheremo mai. Ancora nessuna conferma da parte dell'esercito israeliano, ma secondo fonti arabe ci sarebbe stato un attacco portato da Tel Aviv nel sud del Libano, di cui hanno dato notizia i media arabi. Il segretario di Stato americano Blinken ha chiesto a Tel Aviv di evitare un'escalation tra Israele e Hezbollah. In Ucraina, nella notte, Kiev ha lanciato un pesante attacco con droni in territorio russo, colpendo alcune raffinerie ed un aeroporto. Hanno aspettato l'inizio di Italia-Spagna i cinque uomini armati che ieri sera hanno fatto irruzione nell'abitazione di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, rubando denaro, preziosi ed orologi. L'ex pallone d'oro avrebbe cercato di fermare i malviventi, ma uno di loro lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola. Qualche livido e tanta paura fa sapere Baggio che si trovava al momento dell'aggressione insieme alla moglie Andreina e ai tre figli. Buongiorno dal telegiornale della Sette. In primo piano oggi un tema molto caldo, quello del rapporto tra sicurezza e lavoro, perché continua quella tragica e inaccettabile serie di incidenti. A Mantova è morto un operaio questa mattina di 34 anni incastrato tra i rulli di un macchinario, mentre nella notte un'esplosione all'alluminium di Bolzano ha provocato il ferimento molto grave di sei operai. Quattro di questi sono in pericolo di vita, sono stati portati con l'elisoccorso a Milano, Padova e in Baviera. I pannelli divelti dall'onda d'urto dell'esplosione penzolano dalla struttura di ferro andata a fuoco. Bastano queste immagini a fare capire la potenza della deflagrazione e poi l'incendio che ne è seguito poco dopo la mezzanotte in uno dei capannoni dell'alluminium, storica azienda che lavora all'alluminio nella zona industriale di Bolzano. Dei sette operai del turno notturno, cinque sono in pericolo di vita, uno è grave, hanno riportato ustioni di secondo e terzo grado, sono ricoverati nei centri per grandi ustionati tra Verona, Padova, Milano e Murnau in Baviera. Due si trovano all'ospedale di Bolzano in prognosi riservata in terapia intensiva. Il ferito più grave sarebbe un operaio senegalese di 30 anni, assunto di recente con contratto a tempo indeterminato. L'unico a salvarsi e che ha dato l'allarme è stato il carrellista, sembra non fosse nell'area del forno dove sei operai travolti dall'esplosione lavoravano ad una colata di alluminio. Le telecamere puntate all'interno dell'impianto avrebbero registrato tutto quello che è successo, i vigili del fuoco subito intervenuti ci hanno messo neanche due ore per sedare le fiamme. Cosa possa avere scatenato l'esplosione? Materia d'indagine della procura di Bolzano che ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica di quest'ennesima tragedia sul lavoro. È uno stabilimento siderurgico moderno, quello dell'alluminium di Bolzano, 130 dipendenti di cui 105 sono operai. Leader nel mercato europeo, dal 1976 produce estrusi in leghe dure. Dell'anno scorso l'acquisto di nuovi forni, ma i sei operai feriti questa notte non stavano lavorando su uno di quelli. Non è più accettabile rischiare la vita per lavorare, dicono i sindacati, Fim, Fium e Wilm, Alto Adige, e annunciano uno sciopero di otto ore presso lo stabilimento siderurgico e di quattro ore in tutto il settore metalmeccanico in Alto Adige. Il cappanone è stato messo sotto sequestro. Nel pomeriggio il magistrato e i vigili del fuoco entreranno per un sopralluogo. E poi c'è l'inchiesta sul bracciante indiano morto a Latina in condizioni davvero disumane. La condanna della Premier, l'annuncio di una stretta sul caporalato, di punizioni esemplari, tutto questo nel giorno anche dell'incontro del governo con i sindacati. La terribile morte sul lavoro del bracciante indiano Singh nelle campagne di Latina ha nuovamente acceso il dibattito politico sul caporalato. In tutta Italia sono 230.000, numero per difetto, i migranti irregolari che vengono sfruttati per coltivare frutta e verdura che finisce sulle tavole di tutti, in cambio di una paga di pochi euro all'ora. Questa mattina la Ministra del Lavoro Calderone si è riunita con i sindacati, le organizzazioni dei datori di lavoro e il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollogrigida per cercare di rendere più sicuro e dignitoso il lavoro nei campi. Useremo tutti i mezzi contro lo schiavismo moderno. Nessuno pensi di comprare la vita delle persone con pochi spiccioli, ha detto la Ministra. Sarebbe già pronta un'informativa che dovrebbe portare una stretta sullo sfruttamento, ad un inasprimento delle pene per i caporali e una riorganizzazione dei flussi di mano d'opera, in particolare nel settore dell'agricoltura. L'obiettivo del Governo è quello di partire dal contrasto allo sfruttamento dei migranti illegali che entrano con il decreto flussi con permessi di lavoro falsi. Si studia per tappare la falla nel sistema di ingressi, per fare in modo di contrastare l'esercito di migliaia di invisibili che senza diritti viene poi sfruttato dai caporali. Come Singer, bracciante morto mercoledì scorso, arrivato in Italia all'inizio del 2022 con regolare permesso di soggiorno, avendo un contratto di lavoro della durata di nove mesi che poi non gli è stato rinnovato, diventato così lavoratore in nero. Più controlli preventivi dunque sulle aziende che puntano al click day, verificando se la richiesta di mano d'opera corrisponda a un vero e proprio contratto di lavoro. Il segretario della CGL Maurizio Landini ha parlato anche oggi è una strage, sta emergendo un modello di fare impresa che uccide, fondata sulla riduzione dei diritti e dei costi, ha detto. Proprio la CGL per domani ha indetto una giornata di sciopero del comparto agricolo in provincia di Latina e ha organizzato una manifestazione in città contro il caporalato, lo sfruttamento e le morti sul lavoro. Anche la segretaria del PDL Islaine e molti dirigenti del partito domani parteciperanno alla manifestazione. Intanto per quanto si apprende da fonti di agenzia si starebbe per rilasciare da parte del Viminale dopo chiaramente il nulla osta delle autorità giudiziarie un permesso di soggiorno per la vedova di questo bracciante indiano morto a Latina. La pagina politica perché ad intrecciarsi con la partita delle nomine europee c'è il ritorno della vicenda MES perché adesso che le elezioni sono passate l'Europa torna in pressing sull'Italia per la ratifica della riforma dell'ex Fondo Salva Stati che Roma non ha ancora fatto e che è contraria a fare. Giorgetti, Ministro dell'Economia, sotto il pressing dei colleghi ha approfittato per sottolineare e lamentare l'isolamento di Roma, dell'Italia al tavolo delle trattative per i vertici europei. La partita delle nomine per i nuovi vertici europei impatta sul Consiglio del MES il board dei 20 Ministri delle Finanze dell'Eurozona aderenti al divisivo meccanismo di stabilità su cui ancora non c'è la ratifica italiana unica a mancare. L'irritazione del Ministro Giorgetti ai suoi pari grado in Lussemburgo riguarda il trattamento ricevuto dall'Italia nella cena informale di lunedì a Bruxelles. Giorgetti ha stigmatizzato la convenzio ad escludendum assolutamente sbagliata e l'atteggiamento pregiudizievole verso il nostro paese. Un paese fondatore dell'UE e il ragionamento del Ministro non può essere tagliato fuori da decisioni importanti sul futuro dell'Unione. Il direttore del MES, Pierre Gramegnat interpellato sulle proteste di Giorgetti ha tentato di stemperare. Non sono state menzionate tematiche sull'isolamento dell'Italia ha detto in conferenza stampa ma lo stesso Ministro ha controrreplicato a stretto giro ribadendo che pur rammaricato per l'evidente equivoco di aver fatto riferimento al trattamento riservato all'Italia. L'episodio è sintomatico delle tensioni che il nostro governo vive sia sul risico dei vertici dell'Europa che sarà che sulla mancata ratifica del meccanismo. Giorgetti, fanno sapere dal MEF ha espresso apprezzamento per la relazione fatta da Gramegnat sulla possibile revisione degli strumenti a disposizione dell'ex Fondo Salva Stati e ha accolto favorevolmente la disponibilità ad allargare gli orizzonti del MES. Ad esempio si ragiona sui rischi legati al cambiamento climatico ma i Ministri delle Finanze non avrebbero nascosto di guardare anche la difesa e al sostegno all'Ucraina anche se Gramegnat sembra escludere che il trattato attuale lo consenta. Nel Parlamento italiano ha ribadito Giorgetti una maggioranza per la ratifica del trattato rivisto non c'è come dimostrato esattamente sei mesi fa quando il 21 dicembre il Parlamento bocciò la proposta di ratifica ma stando al regolamento si potrebbe tornare di nuovo al voto. Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin ha già annunciato di voler ripresentare il tema alla Camera sfidando così Forza Italia partito di maggioranza meno stile alla revisione. Così vediamo dice Marattin se è davvero il centro moderato come dice di essere o se è la stampella dei sovranisti e dei populisti. Assolutamente contrario il vice premier Matteo Salvini come ribadito anche stamane a margine di un evento. No, mai figurati altra follia europea se lo approvino loro non ci serve il messo. Intanto la partita politica interna tra centrodestra e centrosinistra avrà nel fine settimana un appuntamento importante con i ballottaggi in molte città chiave per le mire e le ambizioni di entrambi gli schiaramenti. Tra questi ci sono cinque capoluoghi di regione. Secondo round elettorale questo weekend per i ballottaggi le sfide per i sindaci sono ancora aperte in circa 100 città. Questa volta si voterà anche lunedì mattina le urne saranno infatti aperte domenica 23 dalle 7 alle 23 lunedì 24 dalle 7 alle 15. Due settimane fa era stato il centrosinistra a chiudere in vantaggio nei 29 capoluoghi al voto 10 a 5 ma è sui rimanenti 14 che si giocherà il round decisivo. Gli occhi sono puntati sui cinque capoluoghi di regione Firenze, Bari Campobasso Perugia e Potenza. Nelle prime due città già governate dai dem il PD era già in vantaggio e la ricomposizione del campo largo al secondo turno dovrebbe assegnare il risultato. A Firenze infatti la candidata del PD Sara Funaro sostenuta anche d'azione più Europa e sinistra si era classificata prima con il 43,2% contro lo sfidante sostenuto da tutto il centrodestra l'ex direttore degli uffizi Schmidt fermò 10 punti sotto al 32%. Per lei nel secondo turno la convergenza dei 5 stelle resta l'incognita Italia Viva nell'ex feudo del leader Renzi il partito che ha ottenuto il 7,2% al primo turno ha fatto sapere che lascerà libertà di voto ma l'endorsement della candidata è andato a sinistra. A Bari nonostante le divisioni nel campo largo cui Conte ha firmato lo strappo il candidato al dopo De Caro per i Dem Vito Leccese ha sfiorato la vittoria al primo turno con il 48% contro il 29% di Fabio Romito leghista appoggiato dal centrodestra nel secondo round per Leccese anche il soccorso rosso di Michele Laforgia candidato di Movimento 5 Stelle sinistra atteso un testa a testa per il ballottaggio tutto al femminile a Perugia tra vittoria a Ferdinandi per il centrosinistra che punta a riconquistare un suo ex feudo e Margherita Scorcia per il centrodestra coalizione già al governo della città da due legislature a Campobasso e Potenza il centrodestra è avanti ma la convergenza in extremis delle forze progressiste potrebbe spostare gli equilibri Andiamo adesso in Medio Oriente per vedere come nel pieno delle operazioni nella striscia di Gaza si stia scaldando sempre più il fronte con il Libano perché secondo media arabi Tel Aviv avrebbe addirittura già attaccato il sud del paese mentre Washington continua a predicare moderazione a invitare Tel Aviv a non aprire un altro fronte temendo seriamente che Hezbollah sostenuto dall'Iran potrebbe sopraffare le difese aeree israeliane compreso il famigerato Iron Dome Il baricentro della guerra si sposta sempre più a nord verso il confine israelo-libanese dove può materializzarsi la temuta escalation del conflitto alcuni media arabi riferiscono di un attacco israeliano nella zona di Awazani nel sud del Libano l'IDF per ora non ha confermato la notizia l'altra indiscrezione è che i servizi di Teheran avrebbero avvertito le milizie uscite Hezbollah dell'ordine impartito da Netanyahu di assassinare Nasrallah l'uomo che da oltre 30 anni guida il gruppo uscita Firo iraniano tutti segnali di un'escalation che è temuta da Hezbollah ma soprattutto da Washington a cominciare dal segretario di Stato Blinken che ha chiesto a Israele di evitare a tutti i costi l'allargamento del conflitto anche perché i funzionari statunitensi temono che nel caso scoppiasse una vera e propria guerra con lo Stato ebraico Hezbollah potrebbe sopraffare le difese aeree israeliane nel nord compreso il sistema Iron Dome non a caso a preoccuparsi eppure il comando dell'esercito israeliano che come riporta Arez da tempo chiede al governo di potersi concentrare proprio sul fronte nord e viceversa di avviare una exit strategy dalla striscia di Gaza dove sarebbe impossibile ottenere una vittoria totale contro Hamas l'indicazione dell'IDF viene però ignorata da Netanyahu sempre più in polemica con gli Stati Uniti sono pronto a subire attacchi personali pur di ricevere da Washington le munizioni di cui abbiamo bisogno la replica del premier alla Casa Bianca che aveva definito sconcertante il video in cui Netanyahu accusava l'amministrazione Biden di bloccare le armi destinate allo stato ebraico il premier continua a subire la contestazione feroce dei familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas che sarebbero 110 ma solo 50 ancora in vita intanto è sempre più drammatica la situazione umanitaria nella striscia soprattutto ora che è arrivato il grande caldo perlomeno è ripreso l'arrivo degli aiuti via mare grazie al molo costruito dagli Stati Uniti infine Israele ha convocato l'ambasciatore armeno per un severo rimprovero dopo la decisione di Yerevan di riconoscere lo stato palestinese mentre in Ucraina la controffensiva di Kiev sembra riprendere vigore dopo i nuovi aiuti ottenuti dagli alleati sono stati colpiti radar e centri di intelligence in Russia in queste ultime ore intanto la Corea del Sud ha convocato l'ambasciatore russo dopo il patto di Pyongyang tra Kim Jong-un e Vladimir Putin non accetteremo ricatti ha subito risposto il Cremlino uno sciame di droni sulla Russia lo stato maggiore ucraino ha confermato che nella notte sono state colpite raffinerie a Krasnodar e a Strakhan stazioni radar nella regione di Briansch ed in Crimea nonché centri di stoccaggio e preparazione di droni la Russia però nega la maggior parte dei velivoli più di 100 sono stati abbattuti i pochi danni dipendono dai pezzi caduti al suolo che avrebbero distrutto alcune case private ed un albergo secondo Mosca sono stati colpiti anche droni marini che puntavano alla Crimea sta dunque riprendendo vigore dopo i nuovi aiuti ottenuti dagli alleati ieri l'amministrazione Biden ha confermato che per i prossimi 16 mesi tutti i missili Patriot prodotti saranno per Kiev entro l'estate sui cieli ucraini arriveranno anche i primi F-16 dopo il 14esimo pacchetto di sanzioni europee contro il Cremlino Kiev incassa anche quelli giapponesi l'Unione non senza difficoltà si prepara a dare corso alle decisioni del G7 e da sbloccare i 50 miliardi che arrivano dagli interessi sugli asset russi mobilizzati una decisione che il Consiglio Europeo alla fine prenderà maggioranza per superare il veto dell'Ungheria di Orban infine l'Ecofin ha approvato anche il quadro per l'adesione dell'Ucraina e della Moldavia all'Unione i negoziati possono partire già martedì prossimo tutto questo mentre Putin è rientrato dalla sua visita in Corea del Nord e Vietnam il leader del Cremlino non ha escluso la fornitura di armi ad alta precisione proprio la Corea in risposta a Seul ha aperto al possibile invio di armi a Kiev sarebbe un errore la Corea del Sud non ha nulla di cui preoccuparsi ha risposto Putin aggiungendo che Mosca fornirebbe assistenza militare solo se Pyongyang dovesse difendersi da un'aggressione ieri dal Vietnam il presidente russo ha anche ribadito che non accetterà mai un negoziato di pace fondato sul ritiro delle truppe russe si chiude anche la corsa al vertice della Nato a sostituire l'attuale segretario Stoltenberg sarà l'ex primo ministro olandese Mark Rutte il via libera definitivo è atteso nel vertice di Washington del prossimo 9 luglio non cambia nulla è la posizione di Mosca tanto nella Nato comandano gli americani e adesso il portavoce di Putin Pescov ha dichiarato che la Russia è aperta al dialogo con gli Stati Uniti sulla questione della stabilità strategica ma che i contatti devono riguardare anche l'Ucraina pertanto dunque la Russia dice sia ad un dialogo ampio e globale che comprenda tutte le dimensioni compresa quella relativa al conflitto sull'Ucraina adesso torniamo alla cronaca per raccontare purtroppo ancora una volta storie di uomini che uccidono le donne dalla Sardegna alla Toscana protagonisti sono un 77enne e un 80enne una storia di disperazione solitudine che termina con l'omicidio di una donna fragile e malata è accaduto la notte scorsa ad Arezzo Alessandro Sacchi 80 anni ha ucciso la moglie l'uomo ha impugnato una pistola legalmente detenuta e ha fatto fuoco dopo pochi minuti ha avvisato i vicini dell'omicidio ha chiamato la polizia e soccorsi quindi atteso che qualcuno arrivasse Sacchi ha raccontato agli agenti di essere ormai completamente logorato dalla grave malattia della donna 72 anni Serenella Mugnai affetta ad Alzheimer ha spiegato il suo gesto dicendo che accudiva la donna da solo e che non ce la faceva più a sopportare il peso dell'assistenza la coppia non aveva figli che potessero aiutarli negli ultimi mesi chi lo conosceva si era accorto di quanto Sacchi fosse cambiato ma nessuno è intervenuto per aiutarlo una donna che è stata più volte vittima dalla malattia dall'assenza di un sostegno sociale e di un uomo che non ha visto altra soluzione all'omicidio nelle stesse ore moriva un'altra donna a Cagliari uccisa anche lei dal marito una storia completamente diversa è l'ultimo femminicidio in ordine di tempo Ignazia Tumatis era separata in casa aveva 59 anni usciva spesso la sera ieri era rincasata tardi mentre Luciano Ellis era rimasto solo a guardare la partita quando Ignazia è rientrata ha trovato il consorte infuriato a quel punto racconta l'omicida la donna avrebbe riso di quel rimprovero l'uomo allora ha afferrato un grosso coltello da cucina e l'aggredita colpendola tante volte fino a lasciarla esanima a terra poi ha chiamato la figlia sarà oggi l'autopsia a stabilire con quanti fendenti le ha tolto la vita l'uomo è in carcere con l'accusa di omicidio volontario in Italia dall'inizio dell'anno sono stati 48 i femminicidi uno ogni tre giorni a Catania la polizia ha arrestato sei giovani accusati di far parte di una baby gang specializzata in violenti aggressioni vedete dalle immagini aggressioni che avvenivano in noti locali della movida catanese il branco avrebbe agito per futili motivi scatenando discussioni con le vittime per poi aggredirle con calci, pugni e schiaffi alcuni di loro hanno precedenti penali agli indagati il questore ha notificato il cosiddetto daspo Willy che vieta l'accesso nei luoghi di intrattenimento nell'intera provincia di Catania per ben tre anni sarebbe stata la rottura dello sterzo a causare l'incidente dell'autobus che lo scorso 3 ottobre ha sbandato ed è precipitato da un cavalcavia a Mestre provocando la morte di 22 persone e quanto emerge dalle perizie della procura chieste dalla procura di Venezia in particolare risulta che si sia rotto un perno collegato allo sterzo che ha portato quindi allo sbandamento del mezzo inoltre le barriere in quel punto della strada per la mancanza di manutenzione hanno ceduto perché non hanno sopportato il violento urto nell'inchiesta sono indagati tre funzionari del comune di Venezia e l'amministratore delegato della ditta proprietaria del bus e adesso e adesso vi raccontiamo la brutta vicenda capitata ieri sera a Roberto Baggio nella sua casa in provincia di Venezia mentre stava guardando la partita dell'Italia cinque uomini lo hanno aggredito nella sua abitazione e lo hanno derubato e malmenato quando i rapinatori entrano nella sua residenza ad Altavilla Vicentina Roberto Baggio è sul divano di casa con la moglie e i figli stanno guardando Italia Spagna sono circa le 22 in corso il secondo tempo della partita sono in cinque forse sei persone armate e incappucciate dalla testa ai piedi hanno solo gli occhi scoperti indossano abiti scuri Baggio tenta di affrontare uno dei rapinatori che lo colpisce alla testa col calcio della pistola poi la famiglia del divin codino viene chiusa in una stanza mentre la banda cerca gioielli e soldi ancora difficile quantificare il bottino circa 40 minuti e se ne vanno a quel punto il calciatore sfonda la porta e chiama i carabinieri Roberto Baggio viene nella notte portato al pronto soccorso e medicato con alcuni punti di sutura la sua testimonianza è stato sentito nuovamente stamattina per fornire nuovi dettagli utili alle indagini aiuta il lavoro degli investigatori che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della villa un piano organizzato nei dettagli si tratterebbe di una banda di professionisti le rapine come questa nella zona sono frequenti ed è possibile che i banditi abbiano fatto dei sopralluoghi nei giorni precedenti per organizzare il colpo io e la mia famiglia desideriamo ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto in simili circostanze può accadere di tutto per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura a me lividi e molto spavento ora rimane da superare la paura è il pensiero che Baggio senza tradire la sua riservatezza ha affidato al suo storico manager Vittorio Petrone la sua residenza si trova in collina isolata e immersa nel verde oltre il cancello infatti c'è un giardino molto grande è il buon ritiro del campione ex pallone d'oro 57enne che 11 anni fa ha smesso di giocare a calcio per dedicarsi lontano dai riflettori alla spiritualità alla famiglia e alla sua azienda agricola troppo forte la Spagna per questa Italia al di là del punteggio di misura alla fine di una partita decisa peraltro da un autogol bisogna dire che la Spagna ha dimostrato di essere tecnicamente molto superiore a quest'Italia parsa anche intimidita dalla forza dell'avversario adesso agli azzurri servirà almeno un punto contro la Croazia per passare alla fase successiva di questo europeo se questo match doveva darci l'attuale dimensione della nazionale e misurare le ambizioni per il futuro possiamo dire che si tratta di una bocciatura impietosa con il consente di difficoltà che cresce noi annaspiamo e torna in mente anche l'aver detto altrettanto negativo sui contenuti contro l'Inghilterra nelle qualificazioni nella prova con la Spagna siamo stati un ibrido per usare la metafora sartoriale di Spalletti un abito mal confezionato e non ce lo siamo nemmeno sporcato tradotto poca qualità per cercare una prestazione giochista e nemmeno un'interpretazione di sostanza che pure appartiene alla nostra tradizione soprattutto quando c'è da colmare una distanza tecnica non sappiamo cosa sarebbe cambiato con scelte diverse nella formazione di partenza per il CT il problema è che si è trattato di una partita a doppia velocità c'è stata troppa differenza da un punto di vista di brillantezza per cui non è che si possa andare a parlare di altre cose perché quella è la base di tutto se non hai la stessa gamba degli altri poi le scelte non le puoi fare con la stessa velocità ma è come stavolta le furie rosse sono state il nostro tormento Yamal e Williams hanno martellato e a volte umiliato di Lorenzo e di Marco ma anche in mezzo non c'è stata storia con Rodri Pedri e l'ex Napoli Fabian Ruiz padroni assoluti l'autocorra è sempre catalogato come incidente di percorso ma la dinamica che porta all'autolesionismo di Calafiori dimostra i grandi affanni solo qualche lampo d'Italia e nel finale gli uomini freschi più propositivi solo una grande donna Roma ha evitato un passivo più pesante dopo la partita la capitano Vero ci ha messo la faccia dovremmo prenderci un punto contro la Croazia e ha sottolineato che il destino è ancora nelle nostre mani non bisogna avere abbassamenti di tensione o botte psicologiche come hai detto tu bisogna alzare la testa sapere che abbiamo commesso degli errori questa sera e lavorare su quelle cose lì ma sicuramente la squadra è pronta la squadra domani ritornerà a lavorare meglio di prima e saremo pronti per la Croazia Ecco possiamo dire che in base a quanto visto fare almeno sin qui in campo dalla Spagna ma anche dalla Francia e dalla Germania l'Inghilterra favorita alla vigilia super favorita dei bookmakers sul campo ha incontrato qualche difficoltà di troppo digitale breve anticipazione di quanto vedremo tra poco buongiorno a Vittorio Russo buongiorno a te Luca buongiorno a tutti noi partiremo da Roberto Baggio dalla rapina nella sua residenza di ieri notte che è la notizia del giorno poi in trend su X e su Google la morte dell'attore Donald Sutherland scomparso ieri a 88 anni e infine un compleanno reale principe Williams festeggia oggi 42 anni e ci sono degli auguri speciali tutti per lui a tra poco grazie grazie Vittorio allora pochi secondi di pubblicità poi torniamo con gli aggiornamenti e con la redazione digitale vediamo subito quali sono le notizie che corrono maggiormente in rete con Vittorio Russo redazione digitale di nuovo grazie Luca bentornati allora è la notizia del giorno ed è anche l'apertura del nostro sito la rapina nella villa di Roberto Baggio la scorsa notte il calciatore ha trascorso la notte in ospedale e in questo video che è un esclusiva della Repubblica lo vediamo proprio mentre il pallone d'oro torna nella sua villa ad Altavilla Vicentina e è trascorso la notte in ospedale perché il calciatore è stato colpito alla testa dai rapinatori che l'hanno colpito con il calcio della pistola in fronte e adesso invece sempre parlando di video virali facciamo riferimento alla vicenda di Papa Francesco e della frociaggine aveva suscitato polemiche si era scusato poi c'era ricascato parlando sempre della frociaggine nell'area di frociaggine in giro nel Vaticano ecco proprio a tal proposito uno studente dell'Università delle Filippine durante un incontro su Zoom trasmesso poi anche su YouTube tra il Pontefice e alcuni studenti dell'Università di Chicago organizzato dall'Università di Chicago ha fatto una richiesta ben precisa al Pontefice ascoltiamo guardiamo che cosa è successo ecco ecco Il pontefice ha giustamente risposto, si legge sui media locali, soltanto alla parte relativa alle discriminazioni, in particolare rispetto alle donne, ma non ha fatto riferimento poi alla richiesta dello studente che è stato definito coraggioso. Sempre di video e notizie virali in trend su X e su Google, la morte dell'attore Donald Sutherland, il Casanova di Felini dagli occhi di ghiaccio che è scomparso ieri a 88 anni. L'abbiamo ricordato con questo discorso molto cliccato sui social che aveva tenuto nel 2017 ai Governors Awards. è molto importante per me, per la mia famiglia. È come le porte sono aperte, e una cool, meraviglia di fresco di air come in. I wish I could say thank you to all of the characters that I've played. Thank them for using their lives to inform my life. I have to tell you that I have been beset by my mind's unrelenting interrogation of me, demanding if I deserve this. And in that quandary, I finally found peace in the words of the great Benjamin Kubelsky, who is also known as Jack Benny, when he said, as I say to you now, I don't deserve this. E parlando ancora di video molto cliccati in rete, soprattutto grazie alla scia lasciata dalla giornata mondiale dei rifugiati che si è celebrata ieri 20 giugno, c'è questo video che ha come protagonista l'attore Pedro Pascal, il tono di spade Narcos, che ha deciso di dare così il benvenuto a tutti i profughi del mondo. Guardiamo. Guardiamo la mano e danzaremo, dame la mano e mi amaremo, come una sola flor seremo, come una flor e nada mas. Il mismo verso cantaremos, il mismo passo bailaras, come una espiga ondularemo, come una espiga e nada mas. Te llamas Rosa y yo esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada mas. Ecco, erano i versi di Dame la mano, una poesia di Gabriela Mistral, una poetessa cilena, che è stata anche la prima donna latino-americana a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1945. Adesso ci spostiamo in Messico con la prima tempesta tropicale, l'hanno battezzata Alberto, e la vediamo subito in questo video, che tra allagamenti e devastazioni, piogge e venti fino a 75 km orari, secondo le autorità locali, hanno già causato 4 morti. La situazione dovrebbe, si legge sulla stampa locale, cominciare a migliorare. A partire da oggi erano già state chiuse le scuole e allestiti dei rifugi per la popolazione evacuata dalle zone più a rischio. Dall'acqua alle fiamme con la Turchia che brucia, incendi in Turchia, che hanno causato già la morte di 5 persone, altre 44 sono rimaste ferite. Secondo il Ministro dell'Interno, 35 ambulanze e 7 squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, perché l'incendio è ancora in corso, si sta spostando verso le zone residenziali a causa del vento. E ve l'avevo anticipato prima, oggi è il compleanno del Principe William. Il re dei millennial compie 42 anni e sui social sono arrivati gli auguri della moglie, la principessa Kate Middleton e dei figli George, Lewis e Charlotte. E con questa fotografia pubblicata proprio sul profilo Instagram dei principi di Galles, vediamo il Principe William che salta con i suoi tre bambini, la ritascalia e buon compleanno papà ti vogliamo tutti un mondo di bene. La fotografia sarebbe stata scattata proprio dalla principessa Kate il mese scorso, mentre era ancora in lotta contro il suo tumore. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo come sempre il nostro sito tg.la7.it, tutti i nostri social per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti. Vi auguro un buon fine settimana e restituisco la linea a Luca Speciale, grazie. Grazie, allora aggiorniamo semplicemente per dar conto delle parole del Ministro dell'Economia Giorgetti poco fa in Lussemburgo al termine dell'Ecofin, tornato a specificare quello che è stato il contesto che ieri l'ha visto rispondere rispetto alla richiesta pressante della ratifica del MES da parte dell'Italia, Giorgetti ha detto ho risposto, chiederlo adesso come buttare sale sulla ferita, laddove la ferita è l'isolamento dell'Italia al tavolo delle trattative sulle nomine europee. Giorgetti ha ribadito impossibile al momento per il Parlamento approvare la ratifica del MES, forse in futuro se cambierà e migliorerà. È tutto, grazie per averci seguito, la linea va a Tagadà, alla coppia Sappino-Orsinger in conduzione. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 20, buon pomeriggio sulla 7.